Buonasera a tutti, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Star News. Tre persone sono indagate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania per truffa e riciclaggio. Avevano raggirato un professionista a Lombardo. Ma vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Catania ha dato esecuzione ad un decreto con cui il GIP del Tribunale di Catania ha disposto misure cautelari reali nei confronti di due persone indagate a vario titolo insieme ad un'altra persona per truffa aggravata, autoriciclaggio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Gli approfondimenti hanno permesso di suffragare l'ipotesi investigativa evidenziando come Alfio Larosa, 38 anni, già destinatario di misure cautelari personali nell'ambito di un altro procedimento penale per truffa e autoriciclaggio e Giuseppe Privitera, 36 anni, avrebbero sfruttato talune complessità legate al funzionamento del sistema bancario di paesi oltre confine per sottrarre fraudolentemente ad un professionista lombardo circa 1,8 milioni di euro, reimpiegandone successivamente larga parte nell'acquisto di un immobile di pregio al professionista entrato in contatto con Larosa per effetto del blocco dei fondi operato da un istituto di credito britannico sul conto corrente della società londinese di progettazione dal medesimo amministrata sarebbe stata prospettata dallo stesso Larosa e da Privitera, presentato a sua volta quale sedicente funzionario della banca interessata dotato di grande esperienza sull'attività di consulenza a favore di imprese italiane e straniere la possibilità di una rapida soluzione. Gli indagati avrebbero in un secondo momento prospettato al professionista la necessità di un preliminare temporaneo transito del denaro su un conto personale svizzero intestato proprio alla Rosa a cui avrebbe seguito il definitivo trasferimento a favore dell'interessato una volta acceso in territorio elvetico un nuovo conto corrente societario e attivata sempre in tale stato una sede secondaria della predetta società di progettazione. L'interessato avrebbe dovuto versare così la somma di 135 mila euro risultata può essere stata effettivamente bonificata su un conto corrente fornito da Privitera riconducibile alla fondazione vita e salute con sede a Catania rappresentata legalmente dalla Rosa. Gli approfondimenti hanno permesso di appurare che gli indagati ottenuto il trasferimento del denaro pare a circa 1,65 milioni di euro dal conto corrente inglese a quello personale di la Rosa in Svizzera avrebbero rappresentato alla vittima difficoltà connessa all'attivazione di un nuovo vincolo questa volta da parte dell'istituto di credito elvetico per presunto riciclaggio di denaro accompagnato dall'avvio di specifici approfondimenti che avrebbero avuto una durata di circa 90 giorni. In realtà è stato riscontrato che nello stesso periodo del presunto blocco dei fondi la Rosa avrebbe reimpiegato all'insaputa dell'interessato larga parte della provvista pari a 1,15 milioni di euro per l'acquisto di un immobile di pregio in provincia di Catania indestandolo fittiziamente ad una società di diritto maltese formalmente rappresentata da un soggetto compliacente come detto in precedenza anche lui indagato. Sulla base delle risultanze delle indagini il GIP ha quindi disposto il sequestro preventivo nei confronti di la Rosa e Privitera delle somme giacenti sul conto corrente della Fondazione Vita e Salute sino a concorrenza di 135 mila euro nonché anche al sequestro dell'immobile oggetto di compravendita. Operazione antimafia nella notte ad opera della Polizia di Stato di Catania 21 le ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Catania a seguito delle indagini che hanno ricostruito un giro di estorsioni su 32 tagliaggianti e solo 16 hanno avuto il coraggio di denunciare. Se andiamo a servizio. Associazione tipo mafioso, estorsione, tentata rapina, ricettazione, intestazione, fittizie di beni, tutti reati aggravati dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza ossia Icran, Santa Paola e Ercolano di Catania. Sono i reati contestati a 21 persone arrestate all'alba di oggi nell'ambito dell'operazione antimafia Sabie Mobile condotte dalla squadra mobile di Catania e coordinata dalla DDA Etneo. Un'operazione che in pratica ha disarticolato il gruppo malavitoso di Lineri che fa riferimento ai Santa Paoliani di Catania. Il gruppo era specializzato nelle richieste di pizzo ad imprenditori e commercianti. Sono circa 20 le imprese liberate dal racket dopo anni di taglieggiamento. Le indagini sono state avviate in seguito a tentativo di estorsione nei confronti di un ristoratore catanese che nell'agosto 2019 era stato ripetutamente minacciato. All'imprenditore erano state anche recapitate due cartucce calibro 7,65. Secondo gli investigatori, gli autori di entrambi i tentativi di estorsione sarebbero stati due soggetti che farebbero parte del gruppo appunto di Lineri radicato nell'area nord di Catania e guidata storicamente da Giuseppe Pulverendi Dettum Appassoto e dal genero Pippo Grazioso. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'organigramma della cosca il cui vettice sarebbe stato individuato in Girolamo Rannesi coaduato dai fratelli Salvatore e Giuseppe legato da vingole di Paredela con Pippo Grazioso. Allo stesso modo sarebbero stati identificati i gregari dell'organizzazione che si occupavano della riscossione dell'estorsione della commissione di rapine e di attra attività illegite. Nel corso delle indagini gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato la cosiddetta carta dell'estorsione contenente l'elenco delle attività commerciale taglieggiate mascherate attraverso l'indicazione che si trattava di numeri da giocare all'enalotto con l'evidente fine di depistare eventuali indagini in caso di rinvenimento. A tappropoto sono stati individuati circa 20 attività imprenditoriali che da anni hanno versato all'organizzazione mafiosa ingenti somme di denaro con cadenza mensile o semestrale. Si è stimato approssimativamente che l'organizzazione ingassasse da ogni singolo imprenditore mediamente la somma di 250 euro mensili con un profitto illecito annuale di circa 70 mila euro. Nel corso dell'indagine inoltre è stato accertato che parte dei proventi erano destinate alle spese per la difesa legale degli arrestati nonché per il sostentamento economico delle loro famiglie di cui i capi del clan si erano fatti carico. Il provvedimento restrittivo ha coppito anche i beni patrimoniali dell'organizzazione disponendo il sequestro di un'attività commerciale fittiziamente indestata a soggetti di comodo ma che di fatto sarebbe riconducibile alla famiglia rannese. Le dichiarazioni delle vittime del racket che hanno collaborato con gli inquirenti sono state una delle principali fonti a supporto dell'intero impianto accusatorio. Tuttavia in altri casi nonostante l'evidenza della prova subendo il timore di possibili ritossioni i commercianti hanno preferito tacero dire falso e sono stati indagati e sono stati indagati per falsa informazione al pubblico ministero. Un fatto quello delle vittime del racket di dire il falso che ha suscitato il rammarico da parte del prefetto Francesco Messina direttore centrale anticrimine della polizia di stato. Colpisce che in un'indagine nella quale ci sono ben 32 casi di estorsione solo la metà sono stati oggetto di collaborazione da parte delle persone che definiremo parti offese. C'è un'altra metà che invece si è guardata bene dal denunciare e collaborare con la giustizia. Questo è una cosa che va stigmatizzata perché in questa realtà noi abbiamo investito in repressione sui fenomeni estorsivi e sono anni che abbiamo inciso su questo settore, su questo spazio criminale. Non è concepibile che ancora oggi si consideri l'azione della criminalità organizzata come un'azione di protezione. L'unica protezione che è consentita è la protezione dello Stato. Il resto, e quindi cosa nostra come in questa circostanza, è crimine. Il concetto di paura è ammissibile perché ci siano certe condizioni, su questo dovremmo un attimino approfondire, verificheremo se ci sono queste condizioni. In realtà quando questo tipo di situazioni perdurano negli anni, addirittura risalgono a decenni, c'è qualche dubbio. I incidenti stradali si sono registrati negli stessi minuti nel comprensorio etneo tra le persone rimaste ferite e trasportate negli ospedali. Vediamo. Mattinata caratterizzata da incidenti stradali, quella di oggi per il comprensorio etneo. Il primo si è verificato intorno alle ore 7.15 lungo la strada statale 121. Un tamponamento fra due auto in territorio di Belpasso in direzione Catania, non distante dal centro commerciale Etnapolis. Una delle persone a bordo di uno dei due mezzi è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrerla e trasportarla in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Ad intervenire per i rilievi e la gestione della viabilità che ha subito rallentamenti sono stati i carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò. Il secondo incidente stradale, pauroso, si è verificato in via Cavaliere Bosco all'altezza di via dell'Artigianato a Santa Maria di Licodia. A rimanere coinvolte due automobili, una delle due a seguito dell'impatto si è ribaltata finendo con le ruote in aria, proprio all'altezza dello svingolo per la statale 284. Entrambi i conducenti delle automobili sono rimasti feriti e trasportati in ospedale a Biancavilla per gli accertamenti del caso. Si tratta di un biancavillese che era alla guida dell'auto ribaltata e di un catanese che guidava l'altro mezzo. Per fortuna non avrebbero riportato ferite gravi. Ad intervenire per i rilievi sono stati gli agenti della Polizia Municipale e negli stessi minuti si è verificato un altro incidente sulla strada statale 121 in contrada Palazzolo, territorio Belpasso in direzione Catania. Quattro le auto rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Due i feriti, si tratta di due anziani, marito e moglie che viaggiavano nella penultima auto rimasta coinvolta. Il loro mezzo è stato tamponato violentemente dall'ultima auto, come si intuisce bene dalle condizioni delle carrozzerie dei due mezzi. Un urto che ha provocato loro diverse ferite anche con la fuoriuscita di sangue. Entrambi sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al Policlinico di Catania per le cure del caso. Per oltre un'ora sul posto non è intervenuto nessun esponente delle forze dell'ordine poiché impegnati altrove. Il traffico in direzione Catania ha subito rallentamenti sino alla rimozione dei quattro mezzi che occupavano una corsia. Insomma, una mattinata al cardiopalma per il susseguirsi di notizie riguardanti questi incidenti, che per fortuna non avrebbero fatto registrare, si spera, feriti gravi. Situazione di degrado in via Floreno ad Adrano, non distante dalla chiesa Santa Maria della Catena, a segnalare lo scempio a Videostar, un residente della zona. Rifiuti sono presenti in strada da giorni e da questa mattina si è aggiunto anche un motorino elettrico abbandonato sotto l'arcata presente nella via. E segnalazioni a Videostar in merito allo stato di degrado in cui versa il mando stradale di via del Bottaio a Biancavilla. L'arteria che conduce fino alla chiesetta di Badalato è in condizioni pessime, soprattutto nelle ore serali. Le buche presenti sull'asfalto sono scarsamente visibili, creando ancora più disagi e pericoli ai mezzi in transito. I residenti della zona, che definiscono via del Bottaio come un formaggio svizzero, chiedono un intervento dell'amministrazione comunale affinché possa riportare le condizioni di sicurezza lungo la via in questione. Continua a Catania il braccio di ferro fra Loe Onnoggi e il governo nazionale sulla questione migranti bloccati sulle navi di due organizzazioni non governative. Intanto questa mattina alcuni studenti hanno manifestato il loro dissenso contro l'azione messa in campo dal governo. Vediamo. È stato presentato questa mattina al Tribunale Civile di Catania il ricorso dei legali della Humanity One, la nave dell'NG tedesca che ha condotto nel porto di Catania in Alfredi. Con il ricorso si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo, inviato con metodo telematico dal legale dell'NG tedesca l'avvocato Riccardo Campocchiaro. In pratica, si legge nel ricorso, le persone che si trovano sull'imbarcazione hanno chiesto tutti, con domanda già presentata, il riconoscimento del loro status di profughi e inoltre sono naufraghi, si legge ancora nel ricorso, che sono stati soccorsi durante un intervento in mare. Quindi le operazioni di salvataggio, come prevedono le norme internazionali, vanno concluse e portate a termine, facendoli sbarcare dalla nave immediatamente. Sarà quindi il Presidente Massimo Escher del Tribunale di Catania a dover decidere a chi assegnare il caso e se sarà trattato da un giudice o da un collegio. L'udienza, essendo stato richiesto un provvedimento d'ugenza, sarà trattata senza l'intervento della controparte. E ancora in fase di preparazione, il ricorso, che sarà presentato a Tar del Lazio, con del provvedimento che in buona accomandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo, disposizione che non ha però una scadenza. Intanto, questa mattina, studentesse e studenti del liceo ospedalee di Catania hanno dichiarato lo stato di agitazione a seguito delle vicende sull'accoglienza selettiva a porto di Catania dei migranti arrivate sulle due navi delle ONG e hanno manifestato il loro dissenso contro questo provvedimento proprio dinanzi alla zona del porto dove si trovano le due navi, nonché hanno manifestato la loro solidarietà alle tante persone ancora imbarcate sulle due navi. Sto tornando in Italia la logica fascista e nazista per cui qualcuno si sostituisce a Dio nel dire tu sì e tu no. Adesso li vogliamo tutti qui. Gli diamo l'accoglienza e poi l'Unione Europea ci darà una mano perché hanno il diritto di trovare un futuro migliore così come ce l'abbiamo noi. E non perché loro hanno la pelle nera e la nostra è bianca, abbiamo più diritti di loro dopo che li abbiamo torturati, abbiamo defraudato le loro risorse, tutto l'accidente è responsabile dei confronti dell'Africa. Noi siamo qui oggi dopo aver visto la situazione ieri, sentendoci al porto, è una situazione che va avanti già da sabato sera e crediamo che quello che sta facendo il governo, quello che si sta realizzando davanti ai nostri occhi è veramente disumano. Ci sono ancora più di 100 persone su quella nave, ci sono ancora 35 persone sulla Humanity e siamo veramente stanchi di vedere questa repressione. Il momento è di farli scendere perché sono in un evento connessione disumane e per questo motivo stamattina ci siamo riuniti a scuola, abbiamo fatto una assemblea autogettica per parlare e di informare perché se stiamo qui lo facciamo con condizioni di causa sapendo che cosa stiamo facendo. Ecco ma la vostra protesta proseguirà fino a quando? La nostra protesta proseguirà sostanzialmente fino a quando non avremo la certezza che le persone lì dentro scendono e siano in condizioni umane. Ecco ma non pensi che questa situazione dei migranti, dei naufri che arrivano in Italia, in Sicilia debba essere regolata a livello europeo? È chiaro che l'Europa in questo senso ha una grandissima responsabilità però davanti alle migliaia di vite che ogni giorno arriveranno a questi porti non possiamo comunque stare senza stare zitti, qualcosa bisogna farla e dobbiamo accoglierli perché non è giusto lasciarli nelle condizioni in cui sono arrivati. È proprio una notizia dell'ultima ora, gli oltre 200 migranti presenti sulla Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere ferma al porto di Catania, hanno iniziato lo sbarco. Ad annunciarlo il capo della delegazione di Medici Senza Frontiere, Juan Mattias Slogan. Applausi e grande festa di gioia, così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la notizia dello sbarco di tutti i migranti dicendo scendono tutti, scendono tutti, così ha urlato uno di loro. Copertoni e rifiuti in fiamme questa mattina nella zona delle Salinelle a Paternò a intervenire prontamente sono stati i vigili del fuoco del locale di staccamento. Vediamo. Siamo a Paternò dove c'è in corso un incendio, sul posto ci sono i vigili del fuoco del locale di staccamento che stanno provvedendo a spegnere le fiamme. Si tratta di un cumulo di copertoni, qualcuno ha ammassato questi pneumatici al centro della strada, siamo nella zona delle Salinelle, per poi dare fuoco. I vigili del fuoco stanno gettando della schiuma per cercare di spegnere le fiamme, che tra l'altro minacciano anche dei cavi elettrici. tutta la zona è nel degrado più assoluto, ci sono rifiuti di ogni genere, qualcuno forse per attirare l'attenzione, ma in ogni caso crea solo inquinamento e pericolo. Ha pensato di fare questo, ammassare dei pneumatici al centro della strada e dare fuoco. Sul posto, come state vedendo, ci sono i vigili del fuoco che stanno operando. Hanno prima gettato dell'acqua, ora dell'acqua mista a schiuma per spegnere le fiamme, che sono abbastanza difficili da domare, visto che la plastica è altamente infiammabile. In alto, una colonna di fumo altissima era visibile da tutta la città e l'inquinamento è veramente importante. Nella zona non si respira. L'invento spinge il fumo in questo momento verso la città. Una zona che veramente andrebbe ripresa perché è stracolma di rifiuti di ogni genere a bordo strada e anche all'interno del campo delle salinelle, dove ci sono appunto i vulcanetti. Le fiamme sono state quasi spente, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Paternò. In merito all'incendio di questa mattina che abbiamo appena visto nelle immagini, nella zona delle salinelle, a intervenire è Rosangela Arcidiacono, componente dell'associazione Plastic Free Onlus. Ad andare in fumo sono stati i rifiuti che i volontari di Plastic Free avevano raccolto bonificando il sito e non rimossi dall'amministrazione comunale, così ha detto. Ma sentiamo. Nel 2 ottobre del mese scorso abbiamo fatto questa bonifica, eravamo in 300 persone. Sicuramente è stata un'iniziativa molto bella perché ha riunito non soltanto l'associazione Plastic Free ma altre 12 associazioni che hanno partecipato contemporaneamente per il bene, non soltanto del pianeta in generale, ma soprattutto per il valore che ha quell'area naturalistica all'interno del paese di Paternò che continua ad essere assolutamente abbandonata a se stessa. Dopo la notizia di stamattina degli incendi ovviamente noi siamo arrivati molto a molto delusi perché il 2 ottobre quando abbiamo fatto questa bonifica quei rifiuti che noi abbiamo raccolto sono rimasti tutti lì, non sono stati tolti. Quindi abbiamo fatto praticamente un lavoro inutile perché i rifiuti non sono stati tolti da lì, non sono stati conferiti come era giusto che fosse, ma sono rimasti lì e continuando ad inquinare permettendo alla gente ancora di andare a scaricare in un'area di interesse ovviamente ingiosito, interesse mondiale e oggi si è saputo di questo incendio. Quindi potete immaginare come noi ci siamo sentiti dalla notizia di tanto degrado, devastazione, disinteresse, mancanza di cura di un luogo che merita invece per le quali tante associazioni di Paternò dagli anni e anni ormai si battono. Quindi non sappiamo come rivolgerci a questa amministrazione perché è un'amministrazione che spesso e volentieri risulta solda. Parlando con il nazionale di questa situazione di Paternò, con il nazionale di Plastic Free, mi hanno confermato che casi come questi non ne sono mai accaduti e che questo è il caso più grave che ci sia stato a livello nazionale perché quando dei volontari intervengono durante una bonifica che sia più o meno grossa è anche un risparmio per le amministrazioni perché andare a bonificare un'area ovviamente ha dei costi e quando un'associazione invece vuole intervenire per lo scopo di sensibilizzazione, sensibilizzare per lanciare un messaggio e questo messaggio viene distrutto dalle stesse istituzioni che dovrebbero invece cogliere le nostre azioni come un valore aggiunto, questo ovviamente ci lascia molto perplessi. Molto delusi ma sostanzialmente siamo rimasti delusi dal fatto che comunque questa amministrazione, come tante altre attenzioni, perché non è che le altre siano nettamente migliori, quella di Paternò a volte è veramente molto disarmante, più di tante altre. Giovedì 10 novembre il cimitero cittadino di Biancavilla resterà chiuso fino alle ore 11 per per consentire lo svolgimento di lavori al suo interno. A comunicarlo è l'amministrazione comunale in una nota. Domani alle 19 nella chiesa Sacratissimo Cuore di Gesù a Biancavilla si terrà una veglia di preghiera per le vocazioni presieduta da Don Salvatore Cubito, prorettore del seminario interdiocesano di Catania e di Nicosia, con la partecipazione dei semineristi e dei gruppi giovanili del vicariato. Il momento di spiritualità di domani sarà in preparazione alla celebrazione di venerdì pomeriggio che vedrà la tumulazione della salma in chiesa del primo parroco e fondatore, Don Salvatore Greco. Bene amici, questa era l'ultima delle notizie di questa edizione di Star News. Io ovviamente vi rimando alle prossime edizioni, auguro a tutti voi una buona serata.